Momento di parlare di Coppa Italia dilettanti domenica prossima a Galatina si gioca la finale d'andata della competizione regionale tra Manduria e Molfetta. Ischio di inizio premesso alle ore 16.30, gara di ritorno quella decisiva 14 giorni dopo, domenica 4 febbraio sempre alle 16.30 ma al Paolo Poli di Molfetta saluto e ringrazio per la disponibilità Gianni Tuosto, direttore generale del club Bianco Rosso che vi trovo sempre con grande piacere. Ciao Gianni buon pomeriggio Ciao a voi, buon pomeriggio e grazie per l'invito Gianni Parto da come Molfetta tesserati e tifosi sta vivendo questi giorni di vigilia e i sostenitori molfettesi come si stanno organizzando per la trasferta di Galatina? Ovviamente l'ambiente qui è molto carico c'è tanta adrenalina in città, fortunatamente i tifosi stanno rispondendo anche all'appello fatto da da noi società saranno in massa in trasferta io credo che saremo tra le 3 e le 400 unità di tifosi su di spalte in trasferta e speriamo e cerchiamo di renderli orgogliosi per il sacrificio che faranno per macinare tutti questi chilometri fino a Galatina mi dirai giustamente Gianni non è una partita decisiva però può essere fondamentale poi nell'ottica dei 180 minuti anche perché lo ripetiamo sempre esiste vale sempre la regola delle vecchie competizioni europee il gol in trasferta ha un significato particolare poi nell'economia della doppia sfida che gara di andata ti aspetti da parte vostra e che idee si è fatto di questo Manduria che è sicuramente al netto delle difficoltà accusate nell'ultime settimane una delle realtà più ambiziose del girone B di eccellenza sicuramente Manduria è una squadra molto forte una corazzata per il loro girone e per l'eccellenza in generale anche nel girone unico avrebbe diciamo avuto vestito i panni della favorita o tra le 2-3 favorite dell'eccellenza del girone è ovvio che ci aspettiamo una gara diciamo maschia tosta non uso il termine guerra perché onestamente in questo periodo non mi sembra il caso di dover paragonare a degli eventi che sono più nefasti in giro per il mondo però sicuramente sarà una gara molto tosta una gara che ci farà vivere tante 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 emozioni nell'arco dei 90 e dei 180 minuti sarà noi ci arriviamo convinti noi arriviamo convinti delle nostre possibilità delle nostre ambizioni ma credo che anche il Manduria abbia le stesse possibilità nostre di poter vincere e portare a casa il titolo Firmi per un pareggio con gol al termine dei primi 90 minuti? Mario nella vita non ho mai firmato per il pareggio gli americani dicono che il pareggio è come portarsi a letto la propria sorella quindi noi cerchiamo di fare il meglio e cerchiamo sempre di portare i tre punti a casa in questo caso la vittoria che non sono tre punti ma sarebbe un bel passo avanti per sollevare un trofeo che a Molfetta manca da tanti tanti anni Gianni ci racconti l'impatto di Giuseppe Branà tecnico che avete ufficializzato durante la sosta di Natale con la realtà Molfettese? Senti Giuseppe si è calato immediatamente nella realtà Molfettese bravissima persona ottimo motivatore ottimo mister ovviamente lui ha spostato questo progetto perché sapeva di trovare una rusa forte e noi sapevamo di trovare una allenature forte quindi credo che sia un connubio che è nato sotto i migliori auspici e sta andando avanti in queste settimane con diciamo una bella sinergia un'ottima intesa tra squadra dirigenza proprietà e mister quindi ad oggi ti dico che ha avuto un bel impatto e un'ottima presenza nei cuori di tutti Giuseppe Branà è stato nostro ospite nel discorso a Super Mario Sport e ha detto io ci credo alla rimonta in campionato nonostante il meno 5 dalla capolista Bisceglie è aggiunto sono contento della rossa non serve intervenire ulteriormente sul mercato in entrata condividi entrambi i pensieri? Condivido che la rusa è altamente competitiva ma questo l'ho sempre detto quando eravamo primi e lo dico adesso che siamo terzi nella rimonta ci crediamo perché comunque ci sono ancora tutti gli scontri diretti perché comunque abbiamo una rusa che può lavorare e sta lavorando su più fronti ovvio che per noi la Coppa Italia è stata una diciamo ci ha tolto energie ma siamo contenti di essere in questa finale siamo contenti di non aver lasciato indietro nulla ad oggi poi recuperiamo in campionato io credo e spero di sì se non dovesse essere anche là ci sarà un'altra diciamo lotta nel caso dei pre-off perché io sono diciamo abbastanza sicuro e convinto che comunque questo sarà un giro nella pre-off continueremo a parlare di Coppa Italia dilettanti domani lo faremo su Sponda Manduria perché sarà in collegamento con Televiso da Sport il vicepresidente Angelo Locorotondo per il momento grazie a Gianni Tuoso direttore generale del Molfetta grazie Gianni e in bocca al lupo ovviamente per gara 1 di questa finale molto attesa di Coppa Italia dilettanti grazie ancora a voi buon pomeriggio buon lavoro a voi e speriamo che il lupo viva 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 tanto ciao Gianni a presto